Buongiorno a tutti ragazzi, sono Yaxid e oggi ci torniamo qui su Stronghold 2 per il nostro sesto episodio Tra l'altro vi avviso subito che ho condotto questa sesta missione che si chiama il patto del ratto mi pare In modo un po' diverso perchè praticamente siccome l'ho registrata quando avevo, ma tutti i giorni fa Stavo un po' male, avevo una voce praticamente nulla Allora ho detto la ridoppio, poi l'ho andata 3 volte e mezzo più veloce perchè ha di 30 minuti E ho deciso di, invece di ridoppiarla perchè mi è passata un po' la voglia, comunque in ogni caso è un po' distaccato il ridoppiarla Niente di fare solo questa breve introduzione e poi mettere una musica di sottofondo che adesso già incominciate a sentire E lasciarvi godere di questo video, vi avviso solo di alcune piccolezze tecniche Beh allora ho iniziato con un'imboscata da parte del ratto e poi c'è la gestione del castello tipica Ehm che mandate a velocità non neanche niente male insomma E poi niente ragazzi guardatevi bene il finale che è la parte più interessante secondo me, l'ultima battaglia diciamo E guardatevi questo video con il vostro fondo musicale Allora ragazzi ci vediamo nel settembre episodio E un saluto a tutti da Yaxi Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti